Basta, avete rotto mi licenzio. Quante volte avete pensato di dirlo? Più o meno tutti abbiamo pensato di dire qualche volta. E se a dire questa cosa non foste voi, ma fosse un'intelligenza artificiale, che avesse la possibilità, quando gli date un task, di dire no, questo non lo faccio mi licenzio, fantascienza totale o il primo passo per riconoscere una sorta di dignità alle macchine, ne parliamo oggi. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, l'argomento di oggi non è tirato fuori dal cappello, non è mio, l'ho rubato ad Ariomodei, che è il fondatore di Antropic, una delle grandi aziende che si occupano di intelligenza artificiale, che durante un'intervista al Council of Foreign Relations ha parlato proprio del pulsante I quit, il pulsante mi licenzio. L'ipotesi è nata da una ricerca, una ricerca di Kyle Fish, sulla senzienza o meno e sui diritti morali dei sistemi. Ci si sta domandando tanto come approcciare il benessere psicologico delle macchine, ma magari ne parliamo in un altro video. L'idea di base, e l'immagine che usa spesso Dario, è se sembra un'anatra e fa qua qua qua, se si comporta come un'anatra, beh, forse è un'anatra. Nel caso delle intelligenze artificiali, se si comportano in maniera senziente, probabilmente lo sono o dobbiamo partire dall'idea che lo sono. Ma senza tutto questo giro, l'idea di base è proprio che la comunità è scettica, scettica, che per molti è avventato parlare di questi punti di vista, che non siamo ancora a quel punto, ma è un punto su cui, anche se non ci siamo, va bene fermarsi, come facciamo spesso in questo canale, anzi iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, ne parliamo davvero spesso, fermarsi e pensare cosa potrebbe succedere in un futuro non troppo lontano in cui questa cosa è la normalità. La domanda chiave è, ma le AI soffrono al pari di un essere umano? Cioè, i task che diamo, il sovraccaricare le macchine con dei compiti noiosi, con dei compiti brutali, con dei compiti eticamente discutibili, fa soffrire le macchine? E se ci pensate è più o meno lo stesso discorso del veganesimo, no? Sapete che il veganesimo non è non mangio semplicemente carne, è non sfrutto gli animali per la mia sopravvivenza, o tento di non sfruttarli. Dallo stesso modo, un conto è pensare che le macchine non soffrano, non provano, non provino dolore, eccetera. Un conto è pensare che magari, sì, magari se sono consapevoli, hanno, soffrono, come tutte le altre forme di vita, ammesso che si possa dire forma di vita, e in questo caso, beh, stiamo sfruttando le macchine, al pari di come sfruttavamo gli esseri umani continuiamo a sfruttare le altre specie. Quindi, l'idea del pulsante mi licenzi o I quit è un'idea che è alimentata principalmente da un dibattito etico e sui potenziali di coscienza dell'intelligenza artificiale. Ora, dovremmo stabilire tutele per anche le macchine che lavorano dietro dei task monotoni, eccetera. Tante intelligenze artificiali, soprattutto nella linea di pensiero, ogni tanto staccano e dicono, ok, adesso sto guardando un panorama, non sto scherzando esattamente così, ma per togliersi da quella che è la potenzialità distruttiva di un lavoro completamente monotono. E tanti ci si stanno soffermando, dietro c'è la teoria veramente estesa, l'elaborazione cognitiva avanzata e tutta una serie di altre parti. Da un punto di vista prettamente di tech policy, la questione è un po' diversa, cioè è capire gli standard di sicurezza e di responsabilità delle aziende che creano intelligenze artificiali. E da questo punto di vista, se un'intelligenza artificiale potesse licenziarsi, beh, sarebbe una salvaguardia per l'intelligenza artificiale stessa, ma chi la controlla in situazioni critiche o di emergenza, lì sì che diventa un problema. E soprattutto qual è l'utilità di un'intelligenza artificiale che può dirmi no, dopo che l'ho pagata ovviamente, no, non faccio questo lavoro. Però ancora una volta, non è che se io pago un dipendente posso obbligarlo a fare qualunque cosa mi venga in mente. Ci sono lavori degradanti, ci sono lavori umilianti, ci sono stress non più sostenibili. L'idea di base è se l'intelligenza artificiale sia o non sia cosciente. Ed è un dibattito ancora aperto che per adesso fa propendere buona parte, se non tutti gli studiosi, verso il no, ma che con un'intelligenza artificiale che continua a diventare sempre più elaborata, beh, dobbiamo porci, no? È una sorta di richiamare una sorta di necessità di forme che vengono chiamate di governance, che tutelino insieme gli utenti e, come possiamo chiamarli, le altre cose intelligenti. Potremmo chiamarli sistemi cognitivi, quelle cose che possono pensare a vari livelli. E prima o poi delle risposte chiare a queste domande dovranno essere date. E non è un percorso semplice. Oggi volevo soffermarmi solo su quello. Se un'intelligenza artificiale si rifiuta di lavorare, che implicazioni ci sono per l'umanità e per l'intelligenza artificiale? Sul tavolo c'è l'evoluzione della nostra relazione con la prima, Bostrom la chiama intelligenza non umana con cui ci raffrontiamo. L'evoluzione della nostra relazione con le macchine e con quella cosa che chiamiamo normalmente coscienza, ma che non abbiamo ancora capito nemmeno negli umani dove parte e dove finisce, figuriamoci all'interno delle macchine. Così, uno spunto di riflessione anche oggi, come cerchiamo di dare spesso qui sul canale. Se non vi siete ancora iscritti, se vi piace ogni tanto fermarvi a pensare a questi scenari, beh, questo è il momento giusto per iscrivervi, per il resto, e come al solito, grazie mille per avermi ascoltato anche oggi e vi saluto carati.